ciao a tutte ciao a tutti bentornati qui sul canale oggi vi faccio vedere ancora degli accessori che ho ordinato tempo fa che trovo io trovo abbastanza utili per la nostra tesla vi faccio vedere iniziamo con questo dopo chiaramente andremo a vedere l'installazione praticamente sono in in ottima gomma plastificata molto flessibile col suo velcro questi qua vanno a proteggere le nostre moquette dove abbiamo il lato piede sinistro davanti della macchina e ecco scusate lato sinistro e lato destro della macchina dove mettiamo i piedi per dove dove tocca la moquette sulla parte portiera di destra e portiera di sinistra come si possono vedere hanno il velcro poi andiamo a vedere come l'installazione questi sono appunto i laterali portiera questi sono la parte dietro dove c'è il vano posteriore il sedile posteriore dei passeggeri e questo dovrebbe essere sia appunto la portiera sinistra posteriore ma dopo andremo a vederli al dettaglio mentre questi che sono più gommosi più morbidi sono e la parte sempre davanti dove c'è la plancia la plancia questo è il lato sinistro vedete sono rifiniti così se ho sempre per non andare sempre a grattare la moquette sono facili da pulire una volta che vengono toccati coi piedi e questo è il lato passeggero sempre anteriore ma il tutto per l'installazione lo andiamo a vedere dopo la sigla eccoci qua siamo fuori nell'auto come avevo detto il primo che andremo a installare è questo che va a proteggere la moquette questa qua qua c'è la moquette e questo dovrebbe calzare a pennello qua dentro si infila qua sotto adesso l'ho messo parzialmente vi faccio vedere l'ho messo ecco è qui devo ancora sistemarlo perché questa parte qua andrà sotto la guarnizione però devo farlo con due mani ecco questo qui è il risultato finale nella parte dietro destra vedete va a proteggere va a proteggere la moquette e pulirlo è davvero un attimo e poi lo fate lo mettete sotto la guarnizione e calza a pennello vi ricordo che questo qui ha un velcro sotto che si attacca nelle parti qua questa è la parte destra questa è la parte sinistra la guarnizione della macchina è un po' dura ma riuscite a tirarla su vedete così va sotto e questo è il risultato finale io trovo che sono questi accessori sono molto utili per non andare a graffiare l'auto e poi è facile da trattare da pulire comunque vi lascio il link in descrizione perché col mio codice sconto avete il 20 per cento di sconto io li ho pagati ma comunque la ditta mi ha detto che mi lasciava il codice sconto almeno voi a differenza di me lo andate a pagare col 20 per cento in meno ho messo il fianchetto destro vedete va sotto alla plastica originale poi questo bordino qua sotto il velcro ma perché qui adesso ci va dopo ci va andrà sopra il tappeto e questo non si vede però questa parte qua di destra rimane protetta la mochetta meno se toccano i piedi con un panno è facile da pulire adesso andiamo a vedere la parte sinistra la fiancata sinistra dopo vi faccio vedere perché qui andrà sopra come detto il tappettino e non si vede questa parte qua comunque rimane protetto ed è facile da pulire andiamo a proteggere lì dove c'è l'acceleratore tutta quella parte lì sia lato guidatore che lato passeggero ecco come detto siamo partiamo dal lato passeggero come potete vedere lì sulla parte sinistra dove c'è la console dove si va inevitabilmente a toccare coi piedi ecco qui ho acceso la luce per farvi vedere rimane protetto con quello che vi avevo detto quello gommoso al velcro ed è attaccato ed è calza perfettamente dovete avere un po di pazienza a attaccarlo col velcro perché si appiccica dappertutto però se iniziate dalla parte in fondo vicino al sedile e l'andate a mettere il risultato è ottimale ecco qui vedete il lavoro finito con ho rinserito il tappeto fianchetto ricapitolando fianchetto destro e parte sinistra protetta ecco questo lato guidatore finito la parte destra della console protetta perché inevitabilmente con l'acceleratore si va a toccare il fianchetto sinistro potete vedere è rimesso il tappeto è un lavoro pulito facile da pulire ora andiamo a vedere nella parte posteriore parte posteriore finita anche qui facile da pulire ora vi faccio vedere la parte destra nel lato destro ecco qui il lato destro finito e mi sembra di questi accessori siano molto utili comunque io vi lascio il link in descrizione per avere il 20 per cento di sconto con il mio codice sconto e già che ci sono vi lascio anche il link del profumare la nostra auto ci sono varia un assortimento di profumi per nostra auto adesso ho ricevuto un codice sconto adesso non ricordo se il 15 o il 20 grazie per aver visto il video fino a qua ci vediamo alla prossima se il video ti è piaciuto non dimenticare di mettere un like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornato ciao